Il Tavernelle suona la nona. Tante infatti sono le vittorie consecutive dei gialloverdi, che continuano la loro corsa verso la vetta del girone A di promozione. La gara contro il Piccione, a sua volta reduce da tre risultati utili consecutivi, non è stata per nulla semplice e solo nei minuti finali la squadra di Abbenante è riuscita a trovare il gol vittoria. Tavernelle nella tradizionale divisa gialloverde, Piccione nell'altrettanto consueto completo bianco-blu, arbitra Berno di Foligno. A dispetto della differenza di classifica, gli ospiti nel primo tempo vendono cara la pelle e le occasioni da gol latitano. Al 18esimo da un'azione di rimessa laterale c'è un'uscita del portiere del Piccione Checcarelli, che poi resta a terra. L'azione prosegue con il tiro da fuori di Gobbini, palla alta sulla traversa. Il Tavernelle prova a scuotersi sul finire del tempo e al 45esimo crea la migliore palla-gol sino a quel momento. Passaggio filtrante di Paciosi per Montanucci dalla sinistra, cross in mezzo, caccia a mano, calcia a botta sicura, ma Checcarelli si supera e riesce miracolosamente a respingere. Le riprese di Leonardo Cesaroni ci portano al secondo tempo. Al tredicesimo la migliore occasione per il Piccione con Pelliccia giudicato in posizione regolare che da pochi passi calcia al lato della porta di Segoloni. Padroni di casa ancora imbrigliati dall'atteggiamento per nulla rinunciatario dei bianco-blu e che con il passare dei minuti non riescono a rendersi pericolosi. Abbenante allora le prova tutte entra anche Mencarelli a metà ripresa per un Tavernelle a trazione decisamente anteriore e al trentacinquesimo il risultato si sblocca. Punizione di Montanucci che Carelli respinge come può, l'azione prosegue e caccia a mano da terra in acrobazia non perdona. Vantaggio preziosissimo per il Tavernelle che conquista tre punti vitali per la rincorsa al primo posto che ora dista una sola lunghezza. Con l'allenatore del Piccione presciutti, mister, diciamolo chiaramente oggi la differenza di classifica non si è vista. No, non si è vista ma conta poco, conta che purtroppo abbiamo perso 1-0 e insomma avevamo fatto un'ottima prestazione però peccato per il risultato finale. Abbenante partita difficilissima, partita sofferta, tre punti che forse valgono qualcosina in più. Sicuramente però l'avevo proprio pensata detto ai giocatori. Il giro di ritorno le partite valgono tutte e tre punti ma in realtà non è così. Ci hanno sempre un valore aggiunto perché le nostre avversarie sono sempre agguerrite, hanno obiettivi importanti. Poi devo dire che Piccione è stata veramente una buona squadra, ha degli ottimi giovani, ben organizzata e è stato difficile sbloccarla. Una volta che ci siamo riusciti, chiaro poi dopo tutto sembra un po' più semplice però la partita effettivamente è stata difficile, ci prendiamo questi tre punti con qualcosa in più.